Le telecamere di TVA sono nella Chiesa Madre di Adano, in questo momento siamo esattamente sul terrazzo della Chiesa Madre dove c'è una vista davvero stupenda. Siamo qui per fare il punto della situazione sui lavori che già sono stati ultimati in Chiesa Madre e sui lavori che stanno per iniziare. La Chiesa Madre di Adano è chiusa da oltre tre anni per i danni subiti dalla scossa di terremoto dell'ottobre del 2018. I primi lavori, quelli finanziati dalla CEI, già sono stati completati da tempo, quindi potenzialmente la Chiesa Madre poteva essere già riaperta alcuni mesi fa. Il parroco ha preferito invece tenere ancora chiusa la Chiesa per evitare poi una successiva chiusura perché erano in programma altri lavori, quelli che stanno per partire tra poco. Sono giunti altri finanziamenti, allora vada e stimoli, ripercorriamo le fasi dei lavori qui in Chiesa Madre. Ricordiamo quelli che già sono stati ultimati, quelli finanziati dalla CEI. Sì, infatti, come ha detto lei, la Chiesa è chiusa da più di tre anni perché il terremoto del 6 ottobre del 2018 ha causato la chiusura di alcune nostre parrocchie, come quella di San Francesco e San Pietro e quindi la Chiesa Madre. La conferenza episcopale italiana ha finanziato il tutto e i lavori che sono stati fatti appunto in Chiesa Madre sono quelli delle tre terrazze completamente pavimentate con il cotto siciliano per evitare infiltrazione di acqua. Poi la cupola che vediamo è stata, come dire, nella parte alta e dalla parte bassa incatenata con dei mezzi di acciaio. Oltre a questo è stata incatenata anche la cappella del Sacro Cuore con delle catene all'esterno e anche all'interno. E poi la facciata principale che causa sempre del terremoto si era staccata, credo, da più di due o tre centimetri, è stata un po' ripristinata, sempre con le dovute disposizioni attuali, con una catena abbastanza resistente che non si vede né dall'esterno né dall'interno, perché sotto le tegole e quindi sopra la volta, botte della Chiesa. Quindi potenzialmente lei poteva riaprire già la Chiesa, ha preferito tenerla chiusa? Spieghiamo per quale motivo. Si poteva riaprire come San Francesco e San Pietro, ma ho preferito anche con il consiglio di tutti coloro che fanno parte del consiglio pastorale e parrocchiale di tenerla chiusa per evitare di aprire e poi chiudere di nuovo, siccome ho ottenuto altri finanziamenti, perché la Chiesa ha versato in uno stato un po' particolare. Quindi con questi nuovi finanziamenti che abbiamo ottenuto, grazie al contributo dell'allora architetto Neri, della nostra soprintendenza di Catania, perché adesso è ad Enna, poi con l'azione determinante di Paolo Politi, che era consigliere ma che oggi è assessore, e quindi anche con un contributo preziosissimo che l'assessore regionale Marco Falcone ha dato. Con questi finanziamenti noi abbiamo la possibilità di rifare tutto l'impianto elettrico, la pittura, quindi la tinteggiatura di tutta la Chiesa e speriamo che possa uscire qualche altra cosa da questo finanziamento come la pulitura delle colonne, quindi la sabbiatura per ciò che riguarda la pietra. Questi lavori dovrebbero partire quando? Allora, come il denaro è pubblico non lo amministro io, lo amministra direttamente il Comune, per cui ha già fatto il Comune la gara di appalto per chi deve dirigere effettivamente i lavori e attualmente è in corso la gara di appalto per chi deve effettivamente poi conseguire questi lavori, quindi la ditta che vincerà quando prima comincerà. Credo per la primavera avere già l'inizio di questi lavori e poi io spero, ma mi sembra un po' difficile, riaprirla per San Nicolo Politi oppure sarà a settembre, sarà a ottobre. Padre Stimoli, dobbiamo dire due parole anche per i lavori del soffitto dell'ufficio parrocchiale, perché c'è una benefattrice che ha finanziato questi lavori. Infatti, quelli già sono stati cominciati, sono cominciati i lavori con la benefattrice che paga per intero questo lavoro, per il soffitto perché vengono riportati i quattro evangelisti. Speriamo di fare quanto di più perché sono più che convinto che la Chiesa come Tempio rappresenta la sposa di Cristo, più bella è la Chiesa, più belli dobbiamo diventare noi che un quanto battezzati siamo la sposa di Cristo. Padre Stimoli, diciamo due parole su dove siamo adesso. Siamo sul terrazzo della Chiesa Madre e la prima volta che io salgo qui, diciamo che in pochi possono ammirare quello che abbiamo ammirato questa mattina, perché vediamo la città con tutto il suo splendore e l'Etna sullo sfondo. Ma se Dio vuole o nel cuore un desiderio, realizzare in molti locali sottostanti un percorso turistico che va dal presepe, quindi ripercorrendo tutta la vita di Gesù dalla nascita, dal presepe, quindi i momenti più importanti come vita pubblica, dove Gesù ha avuto la possibilità di predicare e di compiere miracoli, la morte e la risurrezione. E se posso includo, come hanno fatto anche in qualche Chiesa di Catania, includere la salita qui in queste terrazze per ammirare non solo la cupola da vicino, ma tutto il paese con i vari campanili, il castello, la villa e soprattutto l'Etna.